L'isolante termoacustico in lana di vetro USA è la scelta ideale per l'isolamento delle facciate ventilate, grazie alle eccellenti proprietà isolanti, ignifughe e idrorepellenti. L'elasticità del materiale garantisce ottima adattabilità e semplicità di installazione. Rendendo questo prodotto estremamente efficace per l'isolamento di edifici con pareti esterne irregolari. L'isolante morbido e flessibile aderisce perfettamente alle superfici ed è facile da fissare ai componenti della sottostruttura portante. Le facciate ventilate rappresentano una delle soluzioni più funzionali ed esteticamente interessanti. L'edificio viene ricoperto da uno strato di isolante con velo vetro protettivo per impedire l'ingresso di aria fredda e l'accumulo di polvere, nonché possibili infiltrazioni di acqua piovana. L'eventuale condensa formatasi all'interno dell'edificio attraversa la parete e l'isolante termico per immettersi in una camera d'aria ventilata, evaporando nell'ambiente. L'ingresso di aria nella parte inferiore della facciata è importante per il corretto funzionamento della camera d'aria ventilata. Grazie alla spinta ascensionale, l'aria sale fino in cima alla facciata, fuoriuscendo dall'apertura superiore nell'intercapedine. Lo strato esterno protegge l'isolante termico e la parete dagli agenti atmosferici. Eventuali infiltrazioni di acqua piovana vengono bloccate in superficie dal velo vetro, che insieme alle proprietà idrorepellenti del pannello isolante impediscono il deteriorarsi delle proprietà termiche, acustiche e meccaniche. L'acqua piovana scivola via dalla superficie del pannello o evapora attraverso la camera d'aria ventilata. La camera d'aria della facciata ventilata nel periodo estivo convoglia all'aria calda, raffreddando l'isolante termico e le pareti, creando così condizioni abitative confortevoli durante i mesi caldi. Per lo strato esterno della parete si possono utilizzare vari materiali, come ad esempio vetro, legno, mattoni, pannelli in fibra sintetica, lastre di metallo. La lana di vetro è una soluzione eccellente per isolare la facciata ventilata. Ursa offre diversi prodotti per l'isolamento termoacustico di facciate ventilate. Grazie a un peso estremamente ridotto, i prodotti Ursa Glassful rendono veloci e semplici le operazioni di pose in opera. Si comincia con il delimitare la sezione orizzontale e verticale della parete da isolare. Tramite tasselli ad espansione vengono montati dei profili angolari in acciaio, ai quali vengono temporaneamente fissati dei profili verticali in alluminio. Prima del fissaggio definitivo dei profili tramite rivetti, occorre verificare sempre il livellamento della sottostruttura della facciata. Viene predisposta un'apposita sottostruttura per il montaggio di porte e finestre attorno alle relative aperture. Il pannello isolante viene posizionato contro il muro. Poi viene realizzato un foro per l'inserimento di un tassello di plastica a circa 5 cm dal bordo del pannello. Una foratura troppo profonda può causare la deformazione del pannello isolante. Il tassello viene inserito nel foro. Successivamente viene introdotta una vite di plastica o di metallo, fissata con il martello. La stessa procedura viene ripetuta per i restanti tasselli. Ogni pannello isolante deve essere fissato con 5 tasselli di plastica. Il successivo pannello isolante viene poi stabilmente posizionato di fianco a quello appena montato. Qualora sia necessario tagliare i pannelli isolanti per adattarli alle aperture, occorre calcolare un centimetro in più per garantire un'agevole installazione. I pannelli isolanti lungo i bordi dell'edificio devono essere alternati, come nella disposizione dei mattoni, per garantire una buona tenuta ed evitare punti termici lineari. Le finestre vanno installate sugli angolari in acciaio, già fissati al bordo esterno. Dopo la verifica del livellamento orizzontale della sottostruttura, il telaio della finestra viene inserito, livellato e fissato con delle viti. Del sigillante viene applicato alla superficie della parete pulita e al telaio della finestra. Poi viene incollata una membrana impermeabile per impedire eventuali infiltrazioni di acqua piovana nell'edificio. Tutti i punti di giuntura tra la membrana e le pareti, i telai delle finestre e tra le membrane stesse, vanno incollati con molta cura, facendo aderire bene le superfici. I bordi inferiore e superiore del pannello protettivo esterno vengono agganciati ai montanti ausiliari già presenti sulla parete. I pannelli esterni della facciata devono essere saldamente fissati alla struttura, per poter resistere a particolari sforzi in condizioni di forte vento. Occorre fare molta attenzione al posizionamento dei pannelli, per garantirne sia la giusta distanza sia il livellamento di ogni singolo pannello. La distanza corretta è assicurata tramite l'inserimento di distanziatori provvisori. La stessa procedura va seguita per il rivestimento della facciata lungo il bordo dell'edificio. Del sigillante viene applicato al telaio della finestra. Un apposito pannello viene incollato alla sottostruttura e saldamente fissato al bordo superiore ed inferiore tramite rivetti. Poi i rivetti verranno nascosti sotto il davanzale e sotto la veneziana. Alla fine il sigillante verrà applicato sull'apposita sottostruttura per il davanzale della finestra. Il davanzale viene saldamente posizionato contro il telaio della finestra e fissato con viti. La veneziana viene inserita nell'apposita apertura sopra la finestra e fissata tramite meccanismo a incastro. Subito dopo occorre verificarne il corretto funzionamento. L'installazione corretta dell'intero strato di ventilazione è cruciale per il buon funzionamento della facciata. Una griglia di ventilazione viene fissata sul bordo inferiore della facciata per impedire l'ingresso di animali e garantire l'afflusso di aria fresca, convogliata dal sistema di ventilazione, che sfrutta il moto ascensionale dell'aria assieme all'isolante termico verso i punti di uscita, nella parte più alta della facciata e sotto i davanzali delle finestre. La griglia viene agganciata allo strato finale della facciata e fissata con rivetti alla parete. Le operazioni di finiture della parte esterna della facciata ventilata partono dal rivestimento di tutti i lati del parapetto con un isolante termico. La sottostruttura portante regge il rivestimento esterno della facciata, il cui design consente la fuoriuscita dell'aria interna dallo strato di ventilazione, prevenendo anche le infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero inumidire l'isolante. L'isolamento termico con lana di vetro Ursa nella facciata ventilata previene il surriscaldamento delle pareti degli edifici e la formazione di condensa, offrendo anche eccellenti proprietà ignifughe. La lana di vetro Ursa garantisce proprietà idrorepellenti, un eccellente isolamento termoacustico e un'ottima adattabilità. Inoltre è semplice e rapida da installare. Senza dubbio l'isolante in lana di vetro Ursa è la scelta ideale per garantire comfort e protezione di qualità superiori al vostro edificio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS